Da oltre 40 anni, Toba Service è il punto di riferimento per lo spettacolo, con noleggio di gruppi elettrogeni di qualsiasi potenza, sedie, audio, luci, gazebo, coperture e riscaldamento, noleggio e vendita di palchi, transenne, flight case per la protezione e il trasporto dei tuoi oggetti. E adesso, da Toba Service si trovi anche i raffrescatori, consumi di meno e rinfreschi l'aria. Sono trasportabili, ideali per ricevimenti, matrimoni, eventi, sia per interni che per esterni, anche a noleggio. Chiamaci per un preventivo al 348 650 09 26. Toba Service, a tutto quello che cerchi.